Video che mi è stato chiesto da tanti di voi, un video relativo alla VL ma non una mia VL giocata ma bensì una serie di consigli che mi sento di darvi per cercare di migliorare quelle che sono le vostre prestazioni in Weekend League e che sono indipendenti da quello che è magari il gameplay vero e proprio che andate voi ad attuare di volta in volta perché ci sono dei piccoli accorgimenti che potete mettere in atto e che si distaccano dal FIFA giocato vero e proprio che possono sicuramente darvi una mano, quindi senza perdere troppo tempo passiamo sulla schermata perché sarebbe comunque un video parlato ma vi tengo davanti comunque le classifiche della VL, infatti come potete vedere qui ci sono tutti questi top player che magari voi insomma ammirate, dite porca miseria questo ha fatto 30-0, 29-1, fanno risultati incredibili tutte le settimane a me basterebbe fare quel risultato in più per già sentirmi soddisfatto come posso fare quindi per andare a migliorare i risultati in Weekend League? io ho preparato una lista con 7 piccoli accorgimenti che potete mettere in pratica primo accorgimento che vi sembrerà banale ma che per me non lo è è quello di sfruttare i tre giorni, ossia la Weekend League sapete bene che inizia il venerdì, continua il sabato la domenica e termina la domenica praticamente notte tra domenica e lunedì il mio consiglio è quello di andarvi a distribuire le 30 partite tra questi tre giorni in che modo? non esiste un modo scientifico per poterlo fare io personalmente adotto come schema 7-13-10 bene o male o 7-10-13 più o meno è questo lo schema che utilizzo io e risponde anche a quella che è un'altra necessità che infatti fa parte anche di un ulteriore consiglio che mi sento di darvi quello di non giocare mai troppe partite di venerdì questo che cosa vuol dire? il venerdì più partite giocate più avete la possibilità di essere matchati contro avversari o del vostro stesso livello o di livello addirittura superiore uscirà poi il video su come funziona il matchmaking anche se non è mai chiaro ma comunque sono stati rilevati dei pattern che funzionano bene o male sempre è chiaro che voi avete un determinato punteggio prima giocate meno giocatori ci sono che hanno lo stesso vostro punteggio quindi è più facile che andate a beccare se state andando bene avversari che stanno andando bene o se state andando male avversari che stanno andando male ok? quindi meno partite il venerdì e spalmare per bene le partite, le 30 partite sui 3 giorni perché è fondamentale secondo consiglio che io mi sento di darvi è quello di non quittare le partite questo perché? sempre per quella questione che il matchmaking non si sa per bene come funziona ma io ho riscontrato che quittando le partite la partita successiva vi va a matchare sempre il mostro finale l'ITAS con lo stemma del Napoli che vi fa l'80% di più lo stesso palla il pro player eccetera eccetera quindi non quittare le partite secondo me è una chiave importante voi dite ormai non le quittiamo più perché ci danno i punti rivals eccetera eccetera però può capitare quella volta che è preso dal nervoso andate là, vi sparate il quit e è buona però in realtà vi fate del male perché la partita dopo il gioco vi saccanisce contro e vi mette una partita ancora piuttosta di quelle che avete abbandonato quindi assolutamente evitate di quittare i match o almeno riducete all'osso i quit perché più quittate più vi mettete in situazioni a mio avviso di autosvantaggio ve lo costruite voi terzo consiglio da non sottovalutare è quello di prendervi delle pause questo non vuol dire che tra una partita e l'altra devono passare due ore e un quarto assolutamente no, anzi questo sarebbe controproducente le pause quando vanno prese? le pause vanno prese magari quando state giocando troppe partite di fila le pause vanno prese quando magari avete perso una partita che vi brucia e allora per spirito di rivalsa volete startarne subito un'altra per cercare di rimediare all'errore che avete fatto non c'è cosa più sbagliata perché questo sentimento in realtà vi porta a giocare magari nervosi vi fa arrasciare le giocate vi fa uscire troppo alto in difesa vi fa cercare un passaggio in verticale piuttosto che un orizzontale per aprire gli spazi quindi prendersi delle pause in quell'occasione quindi per magari andare a prendere un bicchiere d'acqua andare un attimo in bagno eccetera staccare un attimino col cervello aiuta quindi non parliamo di pause di una giornata sana o chissà quanto parliamo semplicemente di una pausa di un 10-15 minuti che vi aiuta un attimino a rilassarvi e a ripartire col piede giusto quindi prendersi pause è fondamentale ragazzi mi raccomando soprattutto in questi in questi casi altro consiglio che mi sento di darvi è quello di andare a evitare gli orari di punta e questo si ricollega anche un po' a quello che è il discorso delle partite di venerdì perché? Evitare gli orari di punta che cosa significa? Evitare proprio quelle fasce che sappiamo essere clou per FIFA come ad esempio le 19 del venerdì quando vengono rilasciate sul gioco tutte le varie promo quindi che ne so escono gli headliner, escono i toti, esce questo, esce quell'altro evitate di giocare la weekend league perché lì c'è tanta utenza collegata i server sono strapieni il gameplay di conseguenza viene rallentato la possibilità di subire delle disconnessioni aumenta in quel caso in maniera esponenziale quindi cercare assolutamente di evitare le 19 del venerdì proprio l'orario di punta che va evitato come se fosse un infetto di covid ok? e poi per quanto riguarda altri orari di punta che secondo me vanno evitati non so ad esempio orari serali al sabato come ad esempio le 9 orari un po' troppo pomeridiani come la domenica alle 5 eccetera eccetera capisco anche bene che voi dite sì ma io la weekend league la devo giocare posso mai mettermi a fare lì l'architetto e calibrare le partite in base a tutti questi fattori eh lo so ragazzi io sono il primo che infatti la weekend league la gioca quando è live e sti cazzi e buonanotte però fondamentalmente questi sono degli accorgimenti che vi possono aiutare magari a fare quella weekend league a provare a farla al massimo delle vostre possibilità seguendoli e quindi a fare magari un buon risultato poi magari le altre volte accantonate tutto quanto e giocate quando dovete giocare però questo per me è fondamentale evitare gli orari di punta un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di andare a utilizzare i super sub un'altra cosa che è molto molto sottovalutata spesso e volentieri siamo innamorati delle nostre squadre abbiamo il Neymar che teniamo in campo tutta la partita Ronaldo eccetera eccetera ma questo alle volte si rivela controproducente piuttosto mettere in campo un Lozano, un Promise, un questo, un quell'altro arriverà tra l'altro video sui migliori super sub vi aiuta tanto e vi aiuta tanto perché quelle forze fresche si sentono tanto rispetto a un Neymar che magari è stanco e quindi non è più esplosivo nello scatto come i primi minuti davanti alla porta magari i suoi tiri non sono più efficaci come prima quando un Lozano per esempio per dirvi il primo che mi viene in mente appena lo buttate in campo è una saetta davanti alla porta comunque la butta dentro quindi cercate sempre di fare i cambi più o meno intorno al settantesimo indipendentemente da che state vincendo, perdendo, pareggiando fate i cambi perché vi aiutano altro consiglio che mi sento di darvi è quello di non cambiare mai la squadra per nessun motivo al mondo durante la Weekend League perché si vanno ad alterare dei piccoli meccanismi che non vedete sono mezzi invisibili e che la squadra avese sfasa non riuscite più a fare quello che facevate prima i giocatori dite che non fanno appunto più i movimenti di prima ma non è colpa del gioco di che perché avete cambiato quei giocatori ogni giocatore è portato a fare dei movimenti per quello più conoscete dei giocatori più alle volte vi vengono naturali quando li invece andate a inserire cercate di fare gli stessi movimenti che non vi verranno perché quel giocatore quei movimenti lì non li fa quindi evitate ad esempio su FIFA 18 in una Weekend League di qualifica addirittura comprai Ramos e Gullit Ramos Stotti e Gullit 90 ero 16-0 la Weekend League la rinizia il giorno dopo 16-4 verso le prime quattro partite cosa avevo fatto? avevo dimenticato di giocare? quei due giocatori erano scarsi? assolutamente no semplicemente ero io che non li conoscevo tant'è vero che Ramos Stotti l'ho ripreso poi qualche mese dopo e mi ha portato alla mia prima qualifica mondiale quindi se volete provare i giocatori fatelo in settimana che avete tempo per prenderli, testarli, capirli e poi andate in Weekend League a fare il devasto ultimo consiglio che io mi sento di dare è di... più che un consiglio questo è lo sfatare un mito perché tanti mi chiedono ma se io gioco la domenica notte trovo i più scarsi ma manco morti raga non giocate la domenica notte troppe partite perché beccate quelli tutti inturbantati col Gatorade voi non avete idea quanti tryharder che giocano la domenica notte magari avete lasciato tante partite siete messi bene ma vi siete dovuti fare una qualifica la domenica notte e quindi avete rovinato la Weekend League quindi sfatiamo questo mito che la domenica notte o la notte in generale si trovano avversari più deboli anzi non è così magari la domenica notte o la notte in generale si trova un gameplay un po' più rapido e responsivo questo è assolutamente vero ma si ricollega al discorso che vi ho fatto prima sull'evitare quelli che sono gli orari di punta quindi mi raccomando tenere a mente questa cosa e nulla raga per questo video fondamentalmente è tutto spero che insomma vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti che ne pensate se già qualcuno lo adottavate vi ricordo di lasciare un like che è sempre importante vi ricordo di iscrivervi al canale perché stiamo crescendo veramente bene mi fa super piacere trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola e nulla ragazzi a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e vi saluto ciao 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 ciao